Contrasto all'introduzione legale in Italia di farmaci e cosmetici non sicuri, sequestro della Guardia di Finanza della Dogana all'aeroporto Marconi di Bologna. Nel corso dei controlli sui passeggeri provenienti dalla ruta africana, sono stati trovati nella disponibilità di unganesi oltre 4.000 pezzi tra antibiotici, antinfiammatori, cortisonici, creme cosmetiche, sprovvisti di doni a certificazione medico-sanitaria delle prescritte autorizzazioni ministeriali. L'introduzione di farmaci sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell'AIFA è vietata e responsabile denunciato alla Procura della Repubblica. Grazie a tutti!